Attore, regista di teatro, impegnato in politica e nel sociale. Arezzo perde l'eclettico Roberto Ciofini, amato e stimato per il suo modo di vivere e comunicare. Aveva 43 anni, una lunga malattia che ha sempre combattuto con forza e dignità. Purtroppo lo ha sconfitto ieri. Roberto è stato anche socio fondatore dell'Arcighe di Arezzo, l'attuale presidente Veronica Vasari lo ricorda così. La nostra associazione ha perso uno dei suoi soci fondatori, membro del direttivo volontario instancabile, ma soprattutto tutti noi abbiamo perso un amico. Roberto ci ha lasciato con un forte insegnamento di coraggio, positività e voglia di vivere. Questo non potrà portarcelo via nessuno, assieme ai tanti ricordi che ognuno ha dentro di sé. Nel 2015 per Roberto Ciofini arriva anche l'impegno in politica. Per le amministrative nel capoluogo a Retino si era infatti candidato con la lista Arezzo in Comune. Personalmente varie esperienze, l'Arcighe, quindi un percorso associativo, la lista civica Arezzo in Comune, una persona che dava tutto se stesso per la società. Lo posso dire di lui e di pochi altri, davvero. Era una persona del teatro come passione, non certo come lavoro, perché campava di tutt'altro. Quindi, insomma, una persona che ha dato tanto a Rezzo, alla cultura, alla società, alla politica, con il suo modo appunto anche informale, divertente, passionale di farlo. Quindi, una grave perdita. E arriva il ricordo anche dell'Officina delle Cultura, testimonianza di un'altra delle grandi passioni di Roberto, il teatro. Non vorremmo aprire teatri oggi, in alzare i sipari, si leggi in una nota. Solo ci piacerebbe sentirti ancora una volta raccontare il tuo impegno. Eppure lo sappiamo che dopo il racconto saresti il primo a salire sul palcoscenico e tirare via le tende con un sorriso, qualsiasi cosa sia accaduta. Va bene, allora apriremo i teatri e alzeremo i sipari. Ma lo faremo in tuo nome perché ci sia di ispirazione e monito al coraggio del vivere. Vogliamo dunque dedicarti insieme a Margherita Scarpellini, sindaca di Monte San Savino, la prossima stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino. La Camera Ardente sarà allestita presso il Teatro Moderno di Tegoleto e giovedì 15 settembre alle 17.30 si terrà una cerimonia laica per l'estremo saluto a Roberto.